Un modo alternativo di produrre vino, nel rispetto della biodiversità del territorio. Questo è il tema al centro del convegno, tenutosi giovedì 9 marzo a Valdobbiadene, nell'auditorium Celestino Piva. Parliamo di biodiversità e parliamo della risorsa del territorio, la biodiversità. Questa sera abbiamo il legale rappresentante della Pololab, una ditta di Oderzo che gestisce e studia i lieviti come risorsa per il territorio. Una risorsa che permette di valorizzare il territorio studiando la biodiversità che è già presente con le piante che crescono spontanee. Abbiamo la fortuna da questi studi fatti che abbiamo verificato che la biodiversità nei nostri territori è ricca, è importante e è aumentata tantissimo negli ultimi anni. A discapito di spesso degli attacchi che ci sono e di quello che viene detto, abbiamo un territorio che è unico. Unico sia per la morfologia ma che anche per la varietà delle piante e del flore che abbiamo all'interno. ha permesso sì che questo insieme di unioni crea una barriera, sta arrivando a portare una difesa passiva che fa sì che si riesca a combattere direttamente gli agenti patogeni attraverso le piante che si trovano sul posto. Questa sera avremo come relatori Maurizio Polo, enologo della Pololab, e la professoressa Angiolella Lombardi, microbiologa, che ci spiegheranno appunto, come già detto, la biodiversità come risorsa del territorio. In una società in cui la globalizzazione la fa dalla padrona, poter distinguere, caratterizzare i vari prodotti e i vari produttori è estremamente importante. Possono i lieviti autoctoni dare una mano? Certo, è l'unica strada. Questa biodiversità, questi lieviti autoctoni, possono dare un'impronta digitale all'azienda, quindi caratterizzare al massimo il vino per singolo produttore. Grazie.